Io sono Valentina Vaio, sono una delle co-fondatrici del progetto Cratic Cables. Nasce nel 2012, il nostro cavo elettrico viene prodotto qui, noi siamo una società torinese. Ad oggi Cratic Cables è presente in 19 paesi del mondo. Mediamente riceviamo tra i 250 e i 300 ordini al giorno. La maggior parte dei nostri clienti ad oggi sceglie il pagamento con carta di credito. Ci appoggiavamo ad altre due soluzioni di pagamento, un wallet e un'altra invece pensata per le carte di credito. Fino a quando abbiamo poi deciso di cambiare per una serie di problematiche che avevamo riscontrato. O meglio, abbiamo notato che avevamo un altissimo numero di carrelli abbandonati. La particolarità della nostra azienda è che quando decidiamo di fare una cosa richiediamo tempi brevissimi. Di conseguenza nel momento in cui abbiamo scelto di provare a cambiare la sezione di pagamento, ci sono volute all'incirca 48 ore per installare il modulo, per fare le modifiche necessarie sui nostri siti e per poter andare online e partire. E per noi questa è stata un'altra cosa fondamentale. Una delle funzioni che io uso di più su Payplug è proprio quella di accedere e inviare una richiesta di pagamento al cliente. È molto semplice per me ed è molto apprezzato dai clienti ai quali io mi limito a mandare un link. Magari sono proprio loro che mi rispondono alla mail dicendomi, ma mandami quel link lì che è tanto semplice. Quando un cliente sceglie di pagare con carta di credito viene reindirizzato a una pagina personalizzata che Payplug ci ha dato modo di avere e di lì può procedere in maniera molto facile al pagamento. Se dovessi usare tre aggettivi per definire Payplug userei efficiente, molto semplice e infine un aspetto che noi apprezziamo tantissimo è quello del servizio clienti che offre e di avere un supporto in tempi veramente brevi, che è una cosa molto difficile da trovare oggi e che però per noi è fondamentale. Grazie